Da Marsala a Caterina Passalacqua, avviato lo sgombero forzato di un altro immobile destinato alla demolizione. I vigili urbani, diretti dal comandante Vincenzo Menfi, hanno svolto il difficile compito di ordine pubblico, mentre gli operai incaricati dal comune provvedevano a sgomberare la villetta di Contrada Marausa nei pressi della foce del fiume Birgi. Momenti concitati che hanno reso difficili le operazioni. È la sesta villetta abusiva nel corso di questo mese in cui i vigili urbani di Marsala fanno eseguire lo sgombero forzato di mobili arredi e suppellettili per poter consentire nei prossimi giorni la demolizione dell'immobile. È un problema di grossa rilevanza in quanto, oltre alle prime 12 abitazioni, altre 3.000 costruite abusivamente sulla costa rischiano la stessa sorta. Prima seduta di Consiglio Comunale aperta al pubblico a Marsala. Si terrà domani mattina a Palazzo 7 Aprile per affrontare le grosse limitazioni che incombono sullo sviluppo urbanistico, economico e ambientale di Marsala. Il Presidente del Consiglio, Enzo Sturiano, ha convocato una seduta per affrontare l'emergenza di un piano paesaggistico fatto a tavolino dalla sovrintendenza ai beni culturali su direttiva dell'assessorato al territorio della Regione Sicilia. La cosa più drammatica è che non sono state tenute in considerazione le esigenze storiche, antropologiche ed economiche della città-territorio che è Marsala. Abbiamo intervistato il Presidente del Consiglio. Presidente, a questo piano paesaggistico cosa cambia per Marsala? Diciamo che cambia tantissimo. Ci sono dei vincoli particolari che vengono introdotti dalla stessa sovrintendenza. Immaginatevi per esempio quello che potrà accadere soprattutto in determinate fazioni del nostro territorio, soprattutto zona Birge, zona Bosco, la stessa zona Paolini, dove ci sono dei vincoli particolari e dove addirittura c'è il rischio che addirittura non si può nemmeno chiedere il cambiamento di destinazione d'uso in determinate abitazioni. C'è il rischio che addirittura non si possa più costruire in determinate contrade, ma il rischio più grosso è che addirittura quella parte di economia che ancora tuttora legge nella nostra città, e mi riferisco soprattutto alla serricoltura, che viene praticata soprattutto in quella parte del territorio, col nuovo piano paesaggistico c'è il rischio che nemmeno può essere più fatta. Quindi ci sono dei vincoli particolari. Addirittura in tutta la zona litorale, nello stesso porto, c'è il rischio di mettere in discussione lo stesso progetto del porto. E cosa si vuole fare sicuramente anche dello stagnone. Lo stagnone in tutta in parte rientra all'interno del piano paesaggistico. Dico non è che tutelare qualcosa significa non mettere nelle condizioni nemmeno di spostare una pietra. Io dico che tutelare sicuramente qualcosa significa valorizzarlo, ma valorizzarlo significa mettere nelle condizioni di tutelare, di tutelare migliorando, valorizzando, dando anche la possibilità sicuramente di riqualificare, ma di riqualificare meglio. Non viene tenuto in considerazione quella che è l'area industriale che è stata approvata forse un sette o otto mesi fa dal stesso dato territorio. Quindi la zona industriale, l'area asi di Matarocco scompare completamente. Quindi va in contrasto col piano paesaggistico. Presidente, un parere del Consiglio Comunale forte può modificare questi vincoli? Ritengo che la necessità non è solo quella di fare sentire la voce del Consiglio Comunale. E noi abbiamo chiesto con forza sicuramente questo Consiglio Comunale aperto perché vogliamo che anche gli organi preposti sicuramente a dare un contributo in termini di idee, che poi sono quegli organi che lavorano sicuramente sulla stesura dei progetti, che lavorano con la sovrintendenza, che lavorano con l'ufficio urbanistica, ci diano il loro parere. E mi auguro che siano presenti anche i partiti politici, con le segreterie politiche, anche loro sicuramente possono recitare una parte importante. Strutture fatiscenti e pagamenti da parte della provincia ed imponenti somme per sopperire alla mancanza di aule, laboratori e palestre necessarie all'ordinaria attività scolastica. La situazione precaria delle scuole medie superiori di Marsala è stata sollevata dal Consigliere Provinciale Ignazio Passalacqua, che in una lettera indirizzata al Sindaco Giulia Damo ritorna a denunciare l'imbarazzante disagio. Il Consigliere Provinciale si riferisce fra gli altri all'istituto commerciale che costa ogni anno centinaia di migliaia di euro d'affitto al liceo classico, che non ha classi sufficienti ad ospitare tutti gli alunni. Ignazio Passalacqua chiede il recupero di alcune strutture più idonee di quelle attuali ad ospitare gli studenti che consentirebbero di risparmiare milioni di euro, come per esempio il vecchio ospedale di San Biagio. Scade il 20 dicembre prossimo l'istanza per l'ottenimento del servizio di trasporto gratuito per i portatori di handicap per l'anno 2013. L'apposito modulo, disponibile presso gli uffici in contrada a Ponte Fiumarella 99B o scaricabile online sul sito del Comune di Marsala, dovrà essere presentato al protocollo generale del Comune in via Garibaldi 1 o all'autoparco comunale. Potranno soffrire del servizio richiedenti avente diritto per un massimo di 200 soggetti in base all'effettiva disponibilità di bilancio con riferimento all'anno 2012. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Marsala. Torneo della legalità di ieri mattina a Marsala. Nei campetti di calcio a 5 del villaggio popolare di Amabilina si sono agonisticamente affrontate le formazioni calcistiche delle forze dell'ordine, dei magistrati della locale procura della Repubblica, dell'Associazione contro le mafie Libera e dei giovani del quartiere. Un incontro più che agonistico basato sull'amicizia e sulla legalità che si è aperto con il saluto del sindaco Giulia Adamo. Abbiamo intervistato Salvatore Ingui, responsabile provinciale di Libera. Torneo della legalità organizzato a Libera nel quartiere di Amabilina che vede coinvolte forze dell'ordine magistrati e rappresentanze locali di giovani che vivono in questo quartiere purtroppo è ancora marginato e da reintegrare nel tessuto sociale. Questa iniziativa va oltre l'aspetto agonistico? Assolutamente sì. Infatti va specificato che non è solo Libera che ha organizzato, ma è proprio con i ragazzi del quartiere, con l'associazione Crimi, insieme a Daniele Crimi e a Nino Crimi. Infatti il valore aggiunto di questa iniziativa è che parte dal basso, se posso usare un'espressione forse anche un po' infelice, nel senso che è un'esigenza di questo quartiere e dei ragazzi di questo quartiere iniziare anche a ritessere una relazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, che magari alle volte hanno avuto qualche momento di incomprensione. E il fatto di poter fare un torneo di calcetto legato al piacere di farsi gli auguri di Buon Natale in realtà ha un valore ulteriore, che è un tentativo di pacificazione, è un tentativo di riportare a legalità i comportamenti che non sono però solo di questo quartiere, ma un po' di tutta quanta la collettività marsalese. Salvatore, quando si vive senza un lavoro fisso, quando si vive purtroppo la giornata, i dissapori possono anche nascere con le forze dell'ordine. È il ruolo della società che deve cercare di evitare che ciò avvenga? Certi comportamenti illegali non possono avere alibi, possono avere forse comprensione, ma vanno comunque circoscritti e vanno, non dico puniti, ma sicuramente non vanno tollerati. È un momento difficile per tutti. La solidarietà della collettività, la solidarietà fra la gente potrebbe essere un elemento per ricompattare un momento di crisi, che non è solo crisi economica, forse è crisi di valore, forse è crisi di relazione. Quindi il fatto che manchi un lavoro fisso e stabile è sicuramente un problema e dovremmo trovare in altre sedi l'opportunità e l'occasione per poter affrontare e superare questa difficoltà. Però comunque i comportamenti civili, i comportamenti corretti vanno al di là dei canoni ricchezza, povertà, lavoro, disoccupazione. È difficile per voi ragazzi vivere in questo quartiere? No, per me no. Perché io ci vivo tranquillamente, anche mia mamma, ho tanti parenti qua, ci viviamo tranquilli. A Marsala c'è questa brutta nomina che dicono che il quartiere non è buono, tipo come tanti anni fa. Tanti anni fa è vero che c'era pure questa cosa, che il quartiere non era buono, c'erano delle persone che facevano casire, facevano le sue cose. Comunque tipo io sono tranquillo, ci sto tranquillo qua, anche tipo la mia famiglia. Alle 21 di oggi presso l'auditorium di Santa Cecilia si terrà la prima delle otto conferenze a sfondo teologico promosse dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, dalla Diocesi di Mazzara e dalla Forania di Marsala, che rientrano nell'ambito delle celebrazioni promosse in occasione dei 50 anni dall'inizio del Concilio del Vaticano II. Nel corso della serata interverranno il Vescovo di Mazzara Monsignor Mogavero e Monsignor Rino Ladelfa, preside della Facoltà Teologica di Sicilia. La dieta mediterranea, di recente riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, continua a raccogliere consensi e affare proseliti. Il mangiare siciliano è una moda del momento praticata da chi non rinuncia ai peccati di gola. Mangiare siciliano per noi non è una e chi è più curioso si spinge anche oltre i confini nazionali alla ricerca di prelibatezze culinarie. Giovanna Vacca, amministratrice di Sicilia, SRL, azienda produttrice di sale biologico, esperta e cultrice della Buona Tavola, lancia una nuova idea. Vediamo di cosa si tratta. Sale mediterraneo non è solo un'attività commerciale ma vuole essere di più, vuole essere uno stile di cucina, uno stile alimentare che attraverso Giovanna Vacca e la sua SRL, sale mediterraneo, diventa oggi sinonimo di cultura enogastronomica. Assolutamente sì, come al solito noi ci proponiamo sempre Sicilia, nuova veste, sale mediterraneo, quindi proponiamo il nostro sale, il sale mediterraneo di Trapani, ricchissimo di regolamenti, ricchissimo, dovrebbe stare sulle tavole di tutti e dopodiché tutti i prodotti di eccellenza del territorio, passiamo dall'olio ai vini, ai patè, alle conserve, conserve naturali, di qualità, conserve del mediterraneo. Del mediterraneo è steso anche a quelli che sono le conserve e i prodotti tipici anche di altre località che si affacciano al mediterraneo, Spagna e Grecia tanto per iniziare. Assolutamente sì, la Sicilia è al centro del mediterraneo, per cui siamo culla del mediterraneo e come culla abbiamo attorno tutta una serie di nazioni satellite, la Grecia è una di queste, la Francia, la Spagna, i formaggi francesi molto richiesti, in questi anni in cui abbiamo esplicato la nostra attività commerciale ci siamo resi conto anche della richiesta di quelli che sono i prodotti delle nazioni di Mitrofe, per cui a questo punto abbiamo tentato anche noi questa strada. Come nasce questo progetto che si abbina al sale di Sicilia, la vostra bellissima realtà, il vostro mulino? Nasce proprio per l'esigenza di tutta una serie di richieste del mercato, richieste commerciali, sia chi si avvicina al sale si avvicina alla Sicilia e si avvicina a quelli che sono i sapori di Sicilia, i sapori del mediterraneo, quelli del mare, quelli degli oliveti, quelli della terra del mediterraneo, quindi abbiamo deciso di aiutare, di accontentare anche questo tipo di clientela. Il vostro slogan è un mondo di novità del mediterraneo per ogni giorno? Per ogni giorno, perché non è soltanto la festa in cui devo mettere al tavola il formaggio con la gelatina di vino pregiato, perché devo fare figura, ma bisogna avvicinarsi alla tavola di ogni giorno, intanto il sale marino è importantissimo, è importantissimo e poi dopodiché tutti i nostri prodotti di eccellenza, perché sono di qualità, quindi quelli non possono sbagliare. Da Marsala è tutto, la linea torna ad Alcamo. Grazie. Grazie.